A seguito della riunione organizzata in regione dall'assessore al lavoro Pietro Quaresimale alla presenza di sindacati e curatori fallimentari per i circa 80 lavoratori dell'ATR di Colonnella ci sarà la Cassa Integrazione straordinaria per cessazione di attività, condizione che rappresenta un importante sostegno per i lavoratori ma non una soluzione per il loro futuro. La cosa chiaramente ci consente di prendere del tempo e trovare una soluzione per questa azienda che è un'azienda con un grandissimo know. La spinta è quella di poter riuscire ad avere un tavolo ministeriale con il MISE e riuscire a creare finalmente quel polo del carbonio tanto desiderato dal nostro territorio che potrebbe essere volano in vista anche di questi finanziamenti europei che arriveranno non solo dal Next Generation EU ma anche dalla programmazione europea 21-27. Siamo in provincia tra l'altro per richiedere al presidente della provincia un'azione politica per far sì di ristabilire l'ufficio relazioni industriali sul nostro territorio, un ufficio importante che ha due obiettivi, non solo gestire le vertenze del nostro territorio che iniziano ad essere tante ma anche e soprattutto quello di poter essere di sostegno all'impresa per attingere a quei finanziamenti. Mentre per la VECO di Martinsicuro al momento non c'è stata nessuna proposta di acquisizione per la storica fonderia chiusa dopo la procedura di fallimento oramai del gennaio 2020. Sul fronte VECO abbiamo avuto la possibilità di prorogare la cassa integrazione, anche lì abbiamo chiesto di stabilire un tavolo con il Mise e anche con il Ministero del Lavoro. Sono partiti i corsi di riqualificazione professionale con l'Ampal che avrebbero, come dire, dovevano partire un anno fa e invece sono partiti un po' in ritardo ma finalmente uno spiraglio c'è. È necessario lì trovare il prima possibile delle soluzioni perché la prima vendita è andata deserta. Che cosa potrà succedere? Lo smemmeramento di quell'azienda. Noi dobbiamo lavorare per trovare una soluzione a questi lavoratori, cercare di capire se ci possono essere acquirenti, vista anche le occasioni che il mercato chiede, il ferro e tutti i materiali necessari per ricostruire attraverso il PNRR il nostro mercato. Quella potrebbe essere una soluzione.